La squadra mobile di Catania, con il coordinamento della DDA Etnea e il contributo della squadra nautica, ha tratto in arresto otto persone, ritenute responsabili in concorso di traffico di ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A seguito di indagini tecniche coordinate dalla DDA di Catania, nel marzo scorso è emerso che tre persone avrebbero trasportato su un peschereccio un grosso quantitativo di marijuana. Il peschereccio, successivamente trasferito nel porto di Catania, è stato sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno scoperto 125 sacchi contenenti oltre 16 chili ciascuno di marijuana, per un peso complessivo di 2000 kg lordi. Gli arrestati sono Roberto Francardo, Fortunato Alecci, Alessandro Zuccaro, Giovanni Stabile, Santo Litrico, Samuele Coco, Fabio Stabile e Gaetano Costazzo. È un sequestro tra i più ingenti che è stato effettuato in Italia e sicuramente in Sicilia il più ingente di marijuana. Stiamo approfondendo le indagini per verificare se, come riteniamo, ci siano organizzazioni criminali che abbiano organizzato e ci siano dietro appunto a questo traffico. Abbiamo verificato che la droga era stata caricata in una delle isonette greche vicino Corfu. Il valore all'ingrosso, stimate, è di 10 milioni di euro, però tenete conto che al dettaglio sul mercato il valore si sarebbe sicuramente triplicato. Il mercato resta fiorente e i sequestri che sono stati fatti negli ultimi tempi, vi ricordo che qualche settimana fa abbiamo fatto un sequestro a Messina, abbiamo arrestato quattro albanesi con 190 kg di marijuana. Questo ulteriore sequestro è fatto nel breve volgere di qualche settimana, poi ci sono sequesti di altre forze dell'ordine, insomma è un mercato fiorente su cui la criminalità investe ingenti risorse.